Ciao a tutti. Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi portiamo dentro la dolce e romantica storia di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Una coppia che sembra superare ogni sfida della distanza. Da quando sono iniziati nel 2023, Valentina e Matteo hanno affrontato la prova dell'amore a distanza con incredibile forza e determinazione. Lei a Milano. Lui negli Stati Uniti. Precisamente al Kentucky Wesleyan College. Nonostante la separazione geografica. La loro unione sembra più solida che mai. E ora. La grande notizia. Dopo un mese e mezzo dall'ultimo incontro. Matteo Napoletano è tornato in Italia. La felicità di Valentina Ferragni è palpabile. E la sorella Chiara non ha potuto fare a meno di condividere questo momento con i suoi follower su Instagram. Immagini e video documentano l'arrivo di Matteo in aeroporto a Milano. Un momento emozionante che ha scaldato i cuori di tutti i fan della coppia. Una volta a casa. La serata è stata allietata da una romantica cenetta preparata con amore da Valentina. Lasagne e due calici di vino. Un modo perfetto per celebrare il ritorno di Matteo. Ma le dolci sorprese non finiscono qui. La coppia ha concluso la giornata con una rilassante schincare di coppia. Dimostrando che il loro amore è fatto di gesti quotidiani e di piccole attenzioni reciproche. Che dire. Sembra proprio che l'amore trionfi sulla distanza. Se anche voi siete fan di questa coppia adorabile. Lasciateci un like e commentate con i vostri pensieri sulla loro storia. Se siete nuovi qui. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le storie d'amore e le novità del momento. Grazie per essere con noi. Ci vediamo nel prossimo video.